E' quasi mezzogiorno, siamo al mercato di Lecco e come potete vedere la gente quest'oggi è davvero poca. Anche mercoledì scorso ce l'ho poco, ma oggi c'è proprio nessuno, veramente. Lei non ha paura? Ho paura, senz'altro, però cosa facciamo? Andiamo avanti. Poca gente al mercato, è stato fatto un po' di terrorismo probabilmente, bisogna giustamente prendere le precauzioni ma senza allarmare troppo la gente, quello sì. Sì, perché purtroppo se no le conseguenze sono queste. Sabato non ci saremo, mi risulta che possono venire solo gli alimentaristi, non gli altri generi. Noi ci atteniamo a quello che ci dice la regione o il comune, quello che è di competenza. Ovviamente non riesco a capire la differenza tra il genere alimentare e il non. Secondo me quando si prende una decisione è meglio pensarci un giorno in più e prendere una decisione più saggia. Non ha paura del contagio del coronavirus? No, per niente. Non ha cambiato le sue abitudini? No, faccio quello che faccio sempre. I mercati stanno soffrendo, tutte le nostre piccole attività stanno soffrendo. Speriamo che questa situazione si ridimensioni nel più breve tempo possibile e cercare di ritornare la gente al mercato e di rifare i mercati normali. Poca gente sta... Poca gente, guarda, mai visto così. Siamo noi 30 anni fa il mercato come periodo così, boh, non lo so cos'è stesso. Ho visto che è vuoto, però d'altronde... Lei non teme il coronavirus? No, no. Lei dice se si va al supermercato perché non venire qua? È uguale venire qua e andare al supermercato. Siamo magari di frequentare ambienti molto affollati dove è più facile la trasmissione, però per andare a far due passi o le cose comuni non credo ci siano grossi rischi. Poi non è da sottovalutare, però una volta che uno segue le indicazioni che ci vengono date... Non c'è un'anima, ma non siamo un po' esagerati, secondo voi? Secondo me è un po' eccessivo, dai. Va bene riconoscere il pericolo, però neanche barricarsi in casa. Non lo so, un po' troppo esagerato, secondo me. Non me l'aspettavo per niente.